buongiorno a tutti e buona domenica ragazze e ragazze io sono angela e oggi voglio parlarvi di uomini e donne ma voglio aprire una piccola parentesi per voi e ringraziarvi veramente perché siete in tanti in questi momenti un po' difficili un po' troppo difficili per tutti quanti a leggervi nei miei nei miei video sotto i miei video e quindi mi fa veramente tanto piacere sentirvi così con affetto chiudo la parentesi e vi do una notizia vi ricordate giulia quattrociocche e daniele schiamon protagonisti di uomini e donne trono classico ebbene si sono lasciati a darne la notizia a spiegare anche il motivo futile è stato proprio lui sul suo profilo instagram infatti diciamo che la coppia si sia lasciata circa due settimane fa e proprio ieri daniele ha dato l'ufficialità si sarebbero lasciati perché lei non permetteva a daniele di almeno il venerdì sera uscire a ballare con i suoi amici cosa che per daniele era molto importante voleva staccare la spina e cercare un attimo di uscire dalla routine quotidiana lei non ci sta e per questo motivo si sono lasciati ma non solo commenta daniele anche per il fatto che lei all'inizio del suo trono diceva di non amare i social mentre appena usciti dal dal programma si è subito iscritta su instagram e quindi ha dimostrato di non essere coerente con quello che dice tutto questo secondo daniele sarebbe proprio la fine della rottura del loro rapporto durato circa quattro mesi ancora da parte di giulia quattrociorche non ci sono né sventite e né conferme purtroppo però possiamo dirvi che si sono lasciati iscriviti al canale se il video ti è piaciuto e lasciami un pollice in su di supporto io vi aspetto come sempre per tanti altri prossimi video vi abbraccio forte ragazze ricordatevi tutto andrà bene un bacio da angela